Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILI possibili rallentamenti per un incidente tra Firenze e Viadotta all'Indiano e Firenze in direzione ingresso città. Per le statali segnaliamo sulla statale 223 di Paganico traffico in aumento per un incidente poco prima di Siena in direzione di Grosseto. Ci spostiamo sulla SGC Grosseto-Fano dove troviamo tratto chiuso per lavori tra San Zeno e Monte San Savino in direzione Monte San Savino. Ci troviamo tra il chilometro 5 e il chilometro 4. In chiusura per il traffico aereo segnaliamo che il volo Firenze-Catania delle 20 è al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 23. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Da oggi ci trovi anche su Telegram. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!